Emanuello, feeling ad amici con la Cuccarini. La verità sulla gelosia di Giorgia Il nuovo insegnante di amici, nel corso di un'intervista con Lorella Cuccarini, si racconta e parla del suo rapporto con la compagna Emanuello, al secolo Emanuello Iacono, è il nuovo professore della scuola di ballo di Maria De Filippi Dal 2010 il ballerino è fidanzato con la cantante Giorgia, dalla quale 12 anni fa ha avuto un figlio di nome Samuel Il coreografo, nel corso di un'intervista a chi in compagnia della collega Lorella Cuccarini, ha parlato della sua esperienza ad amici Programma nel quale era già apparso nel lontano 2016 in qualità di giudice di hip-hop, e di come ha reagito la compagna dopo aver saputo della sua partecipazione al format Giorgia gelosa? Sa come lavoro? Quando ad Emanuello viene chiesto di parlare del suo rapporto con Giorgia, e di cosa ne pensi la cantante della sua partecipazione ad amici, non ha dubbi e risponde Da sempre io e lei siamo fan l'uno dell'altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice Stando alle parole del ballerino Giorgia non sarebbe affatto gelosa della partecipazione del compagno al programma di Maria De Filippi al fianco di Lorella Cuccarini Al contrario sarebbe stata lei stessa spronare e supportare il compagno, convincendolo a rimettersi in gioco e a tornare a ballare in televisione Smentite quindi le voci che vedevano la cantante indispettita dal rapporto che si stava creando tra il compagno e la professoressa di amici Giorgia, al contrario, si è sempre dimostrata molto sportiva nei confronti di questa situazione, come dimostrano le battute goliardiche che ha più volte riservato ai, balletti arditi, della coppia di ballerini Questa non è la prima volta che ad Emanuel lo viene chiesto di parlare del suo rapporto con la compagna Già durante un'intervista a Verissimo, il coreografo aveva narrato della lunga e solida storia d'amore con la cantante Nonostante i timori iniziali della cantante, relativi alla grande differenza d'età tra lei e il ballerino, i due stanno insieme da 20 anni ormai e sono più innamorati che mai Io e Lorella? Come ravvivare una luce che c'era? Tra una battuta e un'altra l'intervista prosegue e Lorella ed Emanuel raccontano a chi cosa provano nel lavorare insieme, esperienza rinnovata a quanto pare I due infatti avevano già collaborato insieme in passato a Makemu nel 2000 e alla Notte Vola nel 2001 Con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo, ballare e riballare con lei mi ha riportato talmente indietro che ogni tanto mi sento davvero un ventenne Si capisce sin da subito come lui, e la ballerina condividano un legame speciale Di sabato in sabato, credo e spero, io e Lorella siamo sempre più noi, più balliamo più riusciamo a riportare Grazie a tutti Relativamente al rapporto con il marito E a cosa ne peni lui delle sue performance ad, amici, la Cuccarini risponde così Si diverte moltissimo, Silvio è abituato, anzi credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti